Pubblicata sul sito della Regione Calabria, la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative alla misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, promossa nell'ambito della campagna 2021-2022 dell'OCM Vino. L'obiettivo sarà finanziare 48 domande per un totale di fondi che supera il milione di euro, al fine di ammodernare i vigneti regionali. L'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo auspica che la misura possa promuovere lo sviluppo della filiera accrescendo qualità e competitività delle produzioni regionali, per lasciarsi finalmente alle spalle le conseguenze dell'emergenza pandemica. Gli interventi finanziati variano dall'estirpazione e il reimpianto di un vigneto con la stessa varietà ma con diversa collocazione, al miglioramento delle tecniche di gestione e la sostituzione di strutture di sostegno preesistenti.